Quando è che siete entrati in contatto con l'Air Max per la prima volta? Favolose di 90, all'epoca io ricordo il primo modello, quello nero bianco, probabilmente era un saldo Sono comodo, poi hanno un bel colore La strada è tua, stai pronto al sorpasso, la storia è tua, fai il prossimo passo Tanto vi sto bombardando, non so se vi accorgete Ognuno di noi è unico nella squadra È più fondante di fama e successo, e la rivoluzione rende a te stesso Be the revolution of you C'è qualcuno di loro che è per caso milanista Può essere perfetto